Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, siamo ancora qui nel nostro frenetico mondo di Brawl Stars e siamo in compagnia della nostra Shelly, una dei nostri 4 Brawlers nuovi di Zecca Oggi come vedete siamo carichi di cose da fare, abbiamo nuovi eventi, nuove cose da riscattare nel negozio e tra 6 coppe avremo praticamente la possibilità di sbloccare i graffiti Quindi direi di cominciare qui, nuovo evento, ci prendiamo i nostri 15 gettoni Nello scorso episodio abbiamo sbloccato la nuova modalità che è Food Brawl Allora non abbiamo provato in realtà neanche a raffagemme perché sto provando prima di tutto a salire di trofei Quindi prima di iniziare le partite io direi di prendere il pacchetto qui 70 raddoppia gettoni, va bene, ce lo facciamo andare bene Qui poi le skin ancora è troppo presto E per il resto qui ci mancano 170 da raccogliere per insomma sbloccare la prossima cassa Quindi senza indugio su Segugio direi di farci la prima sfida per arrivare al grado 12 con Shelly e iniziare Sono contento comunque ragazzi che vi stia piacendo questa serie perché a me il gioco sinceramente sta gradendo molto E sono veramente soddisfatto dei risultati Io vi chiederei se vi piacciono i video di lasciare magari un mi piace o di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto Perché così mi aiutate a crescere e magari posso investire di più nel canale e in futuro portare anche magari qualcosa di più Magari sia come giochi che anche come investimenti a livello di pacchetti o cose varie da comprare Quindi successivamente da portarvi sul canale Quindi insomma vi chiederei soltanto questa cosa qui Ecco adesso sono morto quindi tutto quello che ho appena detto insomma non ha nessun senso dal momento che sono scarso Spero di non essere scarso insomma ragazzi poi comunque devo insomma anche migliorare e piano piano insomma migliorando andrò avanti sia in termini di rendimento che di intrattenimento Facciamoci un'altra dai perché voglio arrivare insomma a prendere sia il baule che il premio dei graffiti che il prossimo rango di Shelly Quindi iniziamo questa partita qui vediamo un po' cosa possiamo fare Allora Nita dovrebbe essere non molto difficile da sconfiggere perché lei manda quei raggetti lì che ecco come vedete hanno un attacco veramente assurdamente forte Però sono comunque attenzione perché qua ci rimaniamo e dicevo hanno un attacco veramente folle però sono lenti a ricaricare quindi bisogna fare più che altro secondo me attenzione al raggio Innanzitutto qui che cosa sta uscendo vedo questo cerchio qui Una bevanda una bevanda uh siamo diventati più grandi attenzione siamo diventati più grandi quindi che cosa abbiamo ottenuto niente penso Comunque dicevo che praticamente Ah l'abbiamo uccisa l'abbiamo uccisa quindi questa bevanda ci fa ci fa diventare più veloci e più grandi Perfetto perfetto e quindi stavo dicendo che dobbiamo fare attenzione secondo me di più a quelli veloci che a quelli forti Perché tipo Nita la possiamo aggirare facilmente Mentre ecco magari questa specie di pirata qui che secondo me uh attenzione abbiamo fatto fuori mamma mia Non ho fatto neanche tempo a finire di dire dobbiamo scappare che l'abbiamo ucciso Quindi 10 coppe attenzione attenzione e arriviamo a un totale di 187 Fantastico ci becchiamo 88 oggettoni Nel frattempo siamo arrivati a livello di esperienza 6 in 3-4 episodi non mi ricordo adesso Comunque grado 12 per Shelly e in più abbiamo anche Ah siamo vicinissimi al prossimo livello del pass abbiamo anche il premio dei graffiti Esprimi la tua creatività nelle mischie prosegui Quindi abbiamo sbloccato allora abbiamo reazioni quindi scegli abbiamo queste qui ok E poi abbiamo graffiti graffiti non so cioè non so a che servono sinceramente da usare nelle mischie Non so non vedo nessuna utilità sinceramente per questi graffiti Comunque vabbè ce li prendiamo a 250 abbiamo il prossimo Niente ragazzi mi era scaduta la connessione come vi dicevo non mi ricordo chi Mattias mi sa nei commenti mi ha detto di streamare E purtroppo vedete la connessione che ho nella casa in cui sono adesso non mi permette purtroppo di fare live o quindi di dirette insomma in cui gioco per molto tempo perché già per caricare i video sto facendo fatica e avrei bisogno di una connessione nuova E comunque a parte questo che stavamo vedendo stavamo vedendo bull che con 40 trofei sblocchiamo come nuovo brawler questo sarà sempre nel cammino dei trofei Quindi direi di procedere anche perché adesso siamo veramente vicini a prendere la cassa enorme Ci facciamo un'altra sfida a scegli veramente mi piace da impazzire ragazzi cioè io ho fatto qualche partita con Nita Sì ci troviamo bene anche perché ve l'ho portato in qualche episodio e ve l'ho fatta vedere un po' come funziona anche perché mi sa che ci ho vinto un paio di partite con Nita Quindi sì funziona come personaggio però scegli mi piace molto di più perché funziona bene dalla distanza avvicinata funziona bene dalla lunga cittata perché non fa molto danno dalla lunga cittata però comunque ti dà la possibilità di caricare la super Quindi attenzione 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 no 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 questa ci ciocca questa ci ciocca no ci siamo salvati veramente in calcio d'angolo ragazzi che culo No 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 questa ci ammazza mi dispiace ma io me ne scappo io me la batto anzi ci andiamo a prendere la bevanda se riusciamo Sì prendiamo la bevanda vai vai ciao carissima adesso ti becco adesso ti becco e l'abbiamo beccata Siamo rimasti solo in tre sono fomentatissimo ragazzi adesso lasciamo che si scannino fra loro due e noi andiamo a raccogliere le ceneri che rimangono Ecco 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 adesso sì che ci siamo abbiamo la super carica uccidiamo questo bel guagnoncello No devo stare attento u eccola 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 prendiamo la bibita prendiamo la bibita Prendiamo l'altra bibita qui perché sì ok dove sei eccola dobbiamo caricare la super ragazzi perché secondo me se carichiamo la super Ah no no per un pelo mannaggia per un pelo volevo caricare la super con la bibita avremmo fatto il devasto Però vabbè è andata male è stata più veloce di noi sicuramente la connessione in qualche modo inficerà Allora io direi che ci possiamo prendere il cassone qui la cassa enorme 117 monete 12 punti energia per shelly perfetto e 12 per colt che ci permette quindi di potenziarlo Inoltre 30 punti energia per nita questa cassa ci ha dato veramente tanta soddisfazione prossimo 400 oggettoni cassa brawl normale Quindi tanta soddisfazione a questo punto potenziamo colt Perfetto livello 2 colt abbiamo aumentato anche se per adesso a grado 0 Allora shelly livello 4 è 195 trofei a 220 arriva al grado 13 Io prima di chiudere sinceramente ragazzi mi farei una partita con nita così insomma stiamo tutti tranquilli E poi possiamo chiudere la puntata insomma l'episodio Quindi qui non abbiamo niente per iniziare bene purtroppo siamo abbastanza lontani No queste ci fanno fuori subito ci fanno fuori subito C'è troppa resta ragazzi c'è troppa resta qui Stiamo insomma in troppi Ci prendiamo questo qui Dai dai si si andiamo in orso stacchiotto Si attenzione conta anche Dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo E' partita malissimo questa sfida però si sta concludendo bene Infatti ecco qui Vabbè lo stacchiotto tanto tra poco ne prendiamo un altro Siamo rimasti in tre quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per prenderci tutte le casse che vogliamo Ok Ah questo qua Questo qua ci mandiamo contro l'orso Dai 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 ci mandiamo contro l'orso Dai che sei morta si sfida finale Sfida finale uccidiamo qui il teschietto e abbiamo vinto veloce veloce Una bella partitozza senza neanche una bevanda dopante Nel dubbio ci dissociamo dalle bevande dopanti perché noi siamo per le sfide corrette Quindi finiamo con altri 88 gettoni Grado 4 per nita 10 coppe vinte Che ci portano a 225 fantastico E siamo a 127 Allora siamo praticamente a metà del prossimo livello Nel prossimo episodio sbloccheremo sicuramente bull Io comunque continuo ad andare avanti insomma per accelerare sempre di più le cose Però devo dire che stiamo andando bene insomma Grado 12 per scegli Grado 4 per nita Nel prossimo episodio vedremo di usare anche colt e magari poncio Concito E quindi per adesso io direi che può essere tutto Abbiamo fatto 18 vittorie in singolo per 225 trofei livello 6 Quindi tra un poco sbloccheremo qui questa icona Cambieremo questo teschietto scrauso che abbiamo Ragazzi vi ringrazio per aver visto anche questo video in mia compagnia Ci rivediamo ad un prossimo episodio Io auguro a tutti quanti voi una buona serata E grazie per il supporto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti